Positivo al coronavirus è stato scoperto sul lungomare di Barcola all'altezza dei topolini senza la mascherina addosso. È stata una pattuglia dei carabinieri di Miramare a notare l'uomo privo del presidio protettivo in mezzo ad altre persone che stavano godendosi il sole sulla riviera. Il controllo dei militari ha permesso di scoprire che il 64enne triestino era positivo al covid ed aveva violato la quarantena. Insomma, era uscito di casa come se nulla fosse senza mascherina facendo rotta verso Barcola. La pattuglia lo ha isolato da possibili contatti con altre persone e denunciato per la violazione dell'isolamento domestico. Questa è solo la più inquietante tra le dieci sanzioni combinate ieri in provincia per inottemperanza delle normative vigenti. Nel pomeriggio, ad esempio, anche la pattuglia della stazione di Barcola ha sanzionato un triestino perché non indossava la mascherina nel quartiere affollato di Roiano. La polizia, invece, ha sanzionato tre triestini che si intrattenevano bevendo birra all'esterno del bar Alle Torri di Via Dalviano. Sono stati identificati e sanzionati esattamente come il titolare dell'esercizio commerciale. Multati anche due kosovari fermati a bordo di un'auto in Viale Miramare che non hanno fornito agli operatori giustificazioni in merito alla loro presenza in strada. Scattata anche una violazione al codice della strada, essendo gli pneumatici del mezzo usurati e lacerati.